Buongiorno, benvenuti alla consueta rassegna stampa del mattino. Partiamo subito con il santo del giorno e le previsioni del tempo. Oggi è sabato 3 maggio, San Filippo a posto, il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà alle 20.12. Allora guardiamo il tempo, c'è poco da dire, lo potete guardare da voi affacciandovi alla finestra. Oggi il cielo è molto nuvoloso, precipitazioni diffuse e anche a carattere di rovescio. Le temperature sono in abbassamento, venti abbastanza intensi e nei quadranti orientali tenderanno a rafforzare. Il mare è molto mosso per domenica. Il cielo sarà nuvoloso con copertura in attenuazione nel pomeriggio sera, però le precipitazioni sono diffuse anche a carattere di rovescio. I venti sono forti e il mare è molto mosso. Vediamo lunedì, come sempre, d'incanto, lunedì tutto si rasserena. Cielo sereno e al più poco nuvoloso, senza alcuna precipitazione. Le temperature sono in aumento e i venti sono di brezza e il mare si calma. Vediamo le temperature come sono per oggi. Urbino 10-12 gradi, Pesaro 10-16 gradi. Vediamo per domenica, temperature decisamente sotto la media stagionale, 10 gradi stabili a Urbino. Per quanto riguarda la nostra zona, Pesaro 10-14 gradi. E allora, apriamo subito con il resto del Carlino. In primo piano l'evento che è un firouge per tutti i quotidiani, ovvero sia l'udienza del processo a Ferri. Il difensore di Sabanov, titola il Carlino, tenta il colpo. Il processo va fatto lontano da Pesaro perché dice che non c'è serenità di giudizio. E cita una serie di articoli di giornale. E poi Karim Bari fa la lingua agli amici di Andrea con un gesto irriverente. Tanti insulti e tanta rabbia fuori dal tribunale. Vedete nella foto gli amici che indossavano le magliette raffiguranti appunto le figie di Ferri. e che hanno indirizzato ai due imputati tanta rabbia e anche qualche urlo e qualche ingiuria. Ancora da Pesaro andiamo a vedere quello che è la pagina riguardante la città di Pesaro. Sapete che in Viale della Repubblica parte questa nuova illuminazione. È stata inaugurata in anticipo. Però ora si accendono oltre ai lampioni anche le polemiche. che scatta naturalmente su Facebook il dibattito su chi è pro e su chi è contro. Grazie a Calegari, storica dell'arte, dice che potrebbe essere spettacolare. Ora però è troppo pesto per i giudizi e quindi vedremo a posteriori qual è l'impatto. Fiat Lux, ecco, è prevista l'accensione per sabato 17. Rinnovato corridoio centro mare, rivoluzionata anche la pavimentazione e utilizzati gli stessi lampioni a led del moletto. Ancora in primo piano sul resto del Carlino, la violenza sulle donne, altri due episodi veramente impressionanti perché lasciano basiti come titolo allo stesso Carlino perché sono casi reiterati di violenza domestica. E' addirittura un maresciallo del 28esimo battaglione Pavia di Pesero di origini campane di 52 anni. E' stato arrestato a Gabice perché maltrattava la figlia ventenne. Quando i militari sono arrivati in casa, la moglie e la figlia erano ancora terrorizzati. Il militare è agli arresti domiciliari, però in caserma non può stare a casa. Usava le maniere forti, diciamo. Picchiata in strada, a bottega, questo è avvenuto. Si rifugia dai vicini, il marito gli ha tirato contro una sedia con lui, ha tre figli, un dramma della gelosia. La donna è stata giudicata guaribile in 20 giorni. Lui ha un provvedimento di restrizione ed è a casa del fratello. Apriamo la pagina di Fano con la questione delle nozze gay, i due che si sono sposati in Olanda, che vedete nel riquadro. Ora vogliono che anche l'ufficio civile di Fano rettifichi la loro unione, però c'è un po' di imbarazzo perché l'ufficiale di Stato civile rimanda al tribunale questa decisione. Massima disponibilità anche da parte del sindaco che all'epoca delle nozze, nel 2008, aveva anche mandato un telegramma ai due sposi. La contessa mette la maleducazione alla porta. Che cos'è? Sono lezioni di buone maniere, di bon ton. Le buone maniere non sono mai desuete, questo avverrà al circolo cittadino. Si sono iscritte 25 signore. Ancora dalla pagina di Fano, la questione che riguarda la fondazione Carifano e a supporto di Tombari, anche Aguzzi e Paolini si schierano contro Carloni. Il primo cittadino dice che ieri mattina il problema è stato affrontato davanti ai giornalisti nel consueto incontro con la stampa. Intanto la settimana prossima si rinnovano gli organi e Tombari va verso una facile rielezione. Il gruppo Grizzly in azione ripulisce una casa abbandonata nella zona dell'ex aeroporto. Sono entrati da una porta che è sempre aperta e quindi non fanno occupazione perché al calare della sera se ne vanno. L'hanno ripulita e la metteranno a disposizione della comunità per incontri e quant'altro. Ancora la questione del terremoto. Come vedete nella foto, nella raffigurazione, l'epicentro è tra Fano e Senigallia, poco avanti la costa. C'è un sciame scismico che con scosse leggere crea grande timore però. Il terremoto anche il primo maggio tra Fano e Marotta si è sentito. Una mamma dice al Carlino, ho due figli piccoli, uno si è messo a piangere e non ha dormito tutta la notte. Ci possiamo credere perché insomma il terremoto per chi l'ha provato è sicuramente una spiacevolissima esperienza. Poi la nostra regione ne è stata sicuramente oggetto abbastanza in maniera violenta. E penso sono sensazioni che non vanno più via. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico. Anche qui come vi dicevo a centro pagina la notizia che riguarda il processo di Ferri. Insulti contro gli imputati e l'udienza è rinviata adesso. Il 12 di maggio bisognerà vedere cosa deciderà il GUP. Intanto il legale di Sabano ha chiesto lo spostamento a un altro tribunale. Magliette di Andrea sempre con noi. Questa era la scritta che campeggiava sulle magliette indossate dagli amici e dai parenti della vittima presente la moglie e il fratello. L'avvocato Franchi dice che appunto difende i due imputati, uno dei due imputati. A Pesaro non c'è la giusta atmosfera per affrontare un caso così delicato. Pesaro è mandato anche per Ceriscioli, come sempre avviene non solo per lui ma anche per altri sindaci delle città qui che saranno interessati dalle amministrative. Si fa un po' il bilancio e allora dice piste ciclabili e impianti sportivi sono stato il sindaco dell'ambiente. Sempre a Pesaro sono arrivati altri 20 cittadini extracomunitari condotti a Ginestretto e Macerata-Feltre. Quindi continua l'afflusso di migranti. È una questione ripresa anche da altri giornali. Rimaniamo sempre a Pesaro con il Corriere Adriatico per il maltempo. La bomba d'acqua che si è verificata in questi giorni ha creato frane e smottamenti, numerosi disagi lungo Flaminia e Monte Labate e Osteria Nuova. Anche colpiti Monte Felcino, Borgo Ville e Villa Palombara, le zone più martoriate. Addirittura vedete come raffigurano le foto riportate qui dal giornale, allagamenti, acqua nelle case. Insomma veramente una brutta sensazione. Mantenuti tutti i servizi lasciando i conti a posto. Questa è la dichiarazione di Maurizio Pellagaggia, sindaco di Fossombroni, quindi anche per lui bilancio consuntivo. Allungate le ore notturne di illuminazione, onorati tutti gli impegni per gli appalti dei lavori. Ancora dalle pagine del Corriere Fano, il sindaco Aguzzi appunto titola così ai giornali troppe falsità sulla fondazione. Aguzzi contro l'uso strumentale della vicenda, le erogazioni non saranno toccate. E ancora una questione di cronaca, due ragazzini vengono fermati dopo un inseguimento per aver rubato una panda e i carabinieri trovano alla guida un quattordicenne tunisino e al suo fianco addirittura un amico tredicenne di nazionalità lettone. E poi sempre affano, presentata l'affano dei quartieri che sostiene il candidato sindaco Seri, dialogo più stretto con i cittadini e quindi un controllo anche sull'evoluzione dei quartieri. La questione del ponte tra il Lido e la Sassonia, i lavori procedono, nuovi lavori e il basamento per ospitare la struttura sarà predisposto. Andiamo a Pesaro per il messaggero, cambiamo quindi testata anche qui la vicenda del processo Ferri però in testa l'articolo che riguarda Ceriscioli che lascia un tesoretto. Il mio successore si ritroverà oltre 17 milioni di avanzo dell'amministrazione. E appunto anche qui il messaggero fa l'elenco delle piste ciclabili lungo il Foglia. Continuiamo la questione che vi dicevo prima, fuga dei carabinieri al volante di un'auto rubata, i carabinieri trovano appunto un 14enne, il meteo ancora pioggia e freddo, lo abbiamo visto nelle prossime 48 ore. Mira il fiore poi è il polmone verde che vuole respirare. Le associazioni tentano di risensibilizzare la città sul futuro del grande parco urbano pesarese. Apriamo la pagina di Pesaro, del messaggero, come vi dicevo il delitto Ferri e la madre di Berri dice mio figlio è innocente, sostiene insomma che sarebbe stato un po' traviato da Sabanov. Emergenza continua, altri 20 profughi a Pesaro e Nova Feltre e poi l'evasione del suo carnefice, della skipper Curina riporta l'attenzione su questa vicenda e l'iniziativa parte da Facebook ed accordo anche Ceriscioli, una via del porto da dedicare appunto al skipper assassinata. Ancora Pesaro, come vi dicevo Ceriscioli fa un po' il suo bilancio dopo 10 anni di amministrazione, 17 milioni di avanzo, il contenuto in 100 slide mostrate in una conferenza. Cantiere navale, fermo da tempo quello di Pesaro, si spera nell'asta per una ripartenza, quindi con un slancio anche da parte di questo importante comparto per l'occupazione della nostra provincia. Viale della Repubblica, lavori finiti in anticipo, inaugurazione il 17 maggio. Andiamo ancora sul tempo, bomba d'acqua, un mare di fango arriva nelle case, nelle strade, vedete i malcapitati che tentano di porre rimedio con qualche secchiata d'acqua al fango che ha invaso le loro abitazioni, un vero nubifragio, blocca addirittura la provinciale e invade le abitazioni. Esplode la rabbia dei residenti contro la provincia, è una vergogna, da anni chiediamo di pulire i fossi. Disagi anche nel Fanese, in particolare nel tratto fra Ponte Sasso e Marotta. Con le Marathon, una delle maratone matoriali più amate da i runner in Italia sono ben 1.100 al via. Apriamo con l'ultima pagina, come di consueto quella di Fano del Messaggero. Nozze Gay, il Comune rinvia al Tribunale, il Sindaco Cauto dice vorrei andare loro incontro ma prima voglio verificare cosa ci consente di fare la legge. I ragazzi occupano i Grizzly, l'ex scuola di volo e quindi con quest'ultima pagina del Messaggero termina qui la rassegna stampa di questa mattina che tornerà lunedì mattina alle 7.45. Intanto questa sera avremo come sempre occhio alla notizia nell'edizione del sabato alle 20.30. Buon sabato e buon proseguo di giornata a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.